Poi stamattina sono tornata a casa e ho trovato questo sul tavolo. Perciò, eccomi qui. Che dica? Se lei si chiama Rolandi, se ne vedi qui non dice se è per il signore o la signora Rolandi. Dice solo Rolandi. E' vero, dice solo Rolandi. Comunque mi chiesto, me l'ha mandato lei, no? Si, si, l'ho mandato io. Perciò lei non sa se è per il mio o per mia moglie. E' per lei, io, sua moglie non l'ha scelto per niente. D'altronde ne vedo lei, ma c'è la moglie del signore, vero? E deve essere un tipo molto simpatico, sua moglie. Come ha detto chi si chiama? Susanna Rolandi. Susanna Rolandi. Ma come fai, eh? Questi maledetti, maledetti, sono troppo scivolosi. E vedi. Ho, 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 ho. E vedi. Ma come fai, ma come fai, ha. E vedi. Grazie. Grazie.